La parola chiave del Vangelo di oggi è testimonianza. Lo ha detto questa mattina Papa Francesco, introducendo l'omelia alla messa in casa Santa Marta, nella quale ha commentato la liturgia del giorno. Il Vangelo parla di una doppia testimonianza, quella dello Spirito che ci dà la testimonianza di Gesù e la nostra. Noi cristiani siamo testimoni del Signore con la forza dello Spirito e dobbiamo seguirlo senza paura, così come fecero i discepoli che Gesù invitò a non scandalizzarsi delle reazioni e delle critiche degli altri. Perché la testimonianza porta con sé le persecuzioni, dalle piccole persecuzioni delle chiacchiere a quelle grandi di cui la storia della Chiesa è piena, che porta i cristiani nel carcere o li porta perfino a dare la vita. Dice Gesù il prezzo della testimonianza cristiana. «Vi scacceranno delle sinagoge, anzi, viene l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio». Cristiano, con la forza dello Spirito, dà testimonianza che il Signore vive, che il Signore è risorto, che il Signore è fra noi, che il Signore celebra con noi la sua morte, la sua resurrezione ogni volta che ci accostiamo all'altare. Anche il cristiano dà testimonianza, aiutato dallo Spirito, nella sua vita quotidiana, col suo modo di agire. e la testimonianza continua dai cristiani, ma tante volte questa testimonianza provoca attacchi, provoca persecuzioni.